Dottore Belpietro, a suo avviso l'Italia dovrebbe seguire quello che in queste ore minaccia di fare l'Austria, il governo austriaco, peraltro di sinistra, la coalizione rosso-verde, cioè chiudere le frontiere e addirittura mettere i cari armati? Direttore? Posso? Prima sentivo Luca Teresi che diceva che in Lampedusa si aprono le porte dell'Europa. No, qui siamo alla chiusura delle porte dell'Europa. Regge tutto il peso dell'Europa, è vero. Mi permetto di correggere Luca che è un amico, un collega, un collaboratore, quindi lo conosco da tanti anni, ma Lampedusa è l'esemplificazione e il fallimento dell'Europa. Lampedusa è la dimostrazione che l'Europa non esiste. Lampedusa è la dimostrazione che tutto il peso lo regge l'Italia. No, dicevo, direttore, dicevo, non ricordavo perché molti si sono collegati ora, che il ministro degli esteri austriaco ha detto se ci sono degli immigrati portateli a Lampedusa. Questa è la sentenza di stasera. Ma sì, ma è la dimostrazione che ci hanno raccontato un sacco di frottole, ci hanno raccontato di un patto europeo. Ma quante volte l'abbiamo sentito la storia del patto europeo? Io ricordo Renzi che tornava dagli incontri internazionali e dice abbiamo trovato la soluzione del problema. Benissimo, adesso ci sarà la redistribuzione. Ricordo quando il ministro Alfano annunciò che finalmente tutti gli immigrati saranno redistribuiti, poi non sono stati retribuiti se non sbaglio una settantina, 70 credo, vado a memoria. Circa 6.500 per la precisità. Sì, sì, certo. Redistribuiti li voglio vedere. I dati ultimi erano poche decine, quindi poi ci possiamo inventare come vogliamo. Più di 3.000 in Germania. Sì, certo. Li abbiamo mandati tutti in Germania, quelli che sono scappati, certo. Ci sono arrivati 180.000... Si può ridere sui numeri, ma sono seguita. Guardate, dopo che ho letto che Angela Merkel dice praticamente di taroccare i dati, permettetemi di non credervi. Posso non credervi alle vostre statistiche? Sì, noi alle sue. Posso non credere all'idea che voi raccontiate... Noi alle sue, siamo pari. Noi non crediamo a quello che dice lei, così siamo pari. Io non credo semplicemente perché non avete dati ufficiali. Ogni giorno raccontate una cosa diversa. Avete raccontato l'altro giorno che c'era... Ma voi chi? Scusi, sta parlando a me o a Germini? Ma voi state al governo. Ma no, parlo con Giannico, parlo con chi sta al governo, che non mi interessa del resto. Voi raccontate che no, ma gli sbarchi, adesso abbiamo trovato la soluzione. La soluzione non c'è. Non l'avete trovata, non l'avete cercata. Avete raccontato un sacco di frottole. Questa è la realtà, ma molto semplice. Direttore, andiamo... Il problema... Sì, finisca, finisca, scusi. No, il problema è che ci hanno da 4, 5, 6, 7 anni, perché poi riguarda tanti governi, non riguarda mica soltanto il governo che c'è attualmente, ci hanno detto che avrebbero trovato la soluzione. La soluzione è che noi abbiamo praticamente in casa qualcosa come circa 500, 600 mila persone che non sono censite, non sappiamo dove stanno, che non controlliamo, non sappiamo se sono profughi, se sono clandestini, se sono migranti. Ci hanno raccontato che abbiamo fatto l'accordo sull'hot spot. Ancora oggi l'Austria ci chiede di fare gli hot spot, cioè di avere in sostanza quelli grandi centri dove si identificano queste persone, si stabilisce se hanno diritto al rifugio, all'asilo politico, oppure no, se devono essere rimandate a casa. Non siamo in grado di fare nulla. È il fallimento di uno Stato. Addirittura.